Sai benissimo che non è casa tua, non conosci bene le dinamiche, qualcosa può andare storto, non è così tutto sotto controllo, però certo è uno stimolo, capita, però è una cosa molto piacevole, è l'imprevisto. Nell'imprevisto qualche volta abbiamo attuato poi dei cambiamenti che probabilmente la standardizzazione che ci impone una conoscenza, una ripetizione del gesto di casa non avremmo mai attuato, quindi vale la pena.